Quasi 63 milioni di euro per la zona economica speciale abruzzese. Inizia a delinearsi in che modo verrà ripartito tra le varie regioni italiane il cospicuo bottino da oltre 190 miliardi del recovery plan. Tra le priorità stilate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato definitivamente alla Commissione Europea il 30 aprile scorso, c'è la realizzazione della ZES, il corridoio per gli scambi commerciali tra est e ovest, in cui l'Abruzzo, per questioni geografiche, è attore protagonista. Complessivamente dei fondi europei destinati all'Italia, 62,9 milioni saranno destinati alla zona economica speciale. Di questi, 19 milioni e 800 mila euro verranno investiti sul porto di Ortona. Altri 8 milioni e 650 mila euro invece andranno a Vasto, dove verranno utilizzati per l'estensione delle banchine del porto e per collegare questo alla strada statale 16. Per il Governo questa è senz'altro un'occasione di rilancio economico e infrastrutturale e le infrastrutture non saranno solo quelle della costa. Un'importante somma andrà da Tessa. 24 milioni e 450 mila euro potenzieranno la linea ferroviaria regionale e della logistica dedicata al trasporto merci. Altri 10 milioni andranno all'area industriale di Manoppello, dove si trova l'interporto, per il potenziamento della rete logistica abruzzese. Questo è il quadro delle risorse europee destinate alla ZES, ma nel PNRR dovrebbero esserci ulteriori investimenti in Abruzzo.